Questo è il comitato tecnico dell'Ibu di cui io sono presidente e in questa riunione si affronteranno principalmente i temi di una ristrutturazione di tutti i gruppi tecnici. I gruppi tecnici dell'Ibu permettono a tutti i broadcaster europei di collaborare sulle tematiche tecniche più importanti, più pressanti. Come mai avete scelto proprio il PRI ogni anno per riunire l'Ibu? Questo è un caso molto particolare in cui c'era questa riunione del gruppo tecnico e abbiamo pensato di farla in concomitanza col PRI Italia che si svolgeva a Torino. Così abbiamo abbinato gli 80 anni del centro ricerche con le dimostrazioni tecniche, il comitato tecnico e il Grand Prix. Siamo molto felici di essere qui in Torino, nel PRI Italia, e anche di avere il nostro comitato tecnico. Comitato e in l'Ibu abbiamo lavorato sui contenuti, come la Eurovision Song Contest, ma anche noi abbiamo lavorato sui broadcasters sui tecniche. E noi abbiamo lavorato in un'unica tecnica e in un'unica tecnica, sui gruppi di futuro, di evoluzione, di tecnologie e di media. E noi siamo molto felici che possiamo utilizzare l'unica di PRI Italia per avere anche queste riunioni, perché qui in questo luogo, è un museo molto bello, dove vediamo il passato di broadcasting e il futuro di broadcasting. Grazie.